sono barbara e sono all'isola gili in indonesia per il mio viaggio di notte la sclerosi multipla colpisce chiunque e ovunque e io lo so bene visto che ce l'ho da otto anni per questo ho deciso di essere testimoni al isma il progetto in viaggio i passi di peter hanno anche questo come obiettivo per cui io ho deciso di sostenerlo